PEGI 16 Come nella vita reale, le proprie azioni contano e le nostre scelte si ripercuotono sugli altri. Ehi! Oh, scusa. Conny, lui è Alex. Ehi, come va, Conrad? Occhio, sorella. Sciuppa femmine. Finalmente ti conosco. E lui è Brad, mio fratello. Ciao. Bradley! Finalmente, ho sentito tanto parlare di te. Sì, e io di te? Ti sono mancato. Ehi, ti va una birra fresca? Ah, i secondi sono tanti, cowboy. Sì, certo. Grande. Adoro la birra. Ehi, vieni qui, mangiata. È vero, la storia è stata raccontata, ma la verità in quella storia potrebbe non essere pura. Ogni racconto può assumere nuovi significati se preso da una prospettiva diversa. Si può tornare indietro nel tempo, vestire panni differenti, prendere nuove decisioni. Oh, scusa. Connie, lui è Alex. Ehi, come va, Conrad? Occhio, sorella. Sciuppa femmine. Finalmente ti conosco. E lui è Brad, mio fratello. Ciao. Bradley! Finalmente, ho sentito tanto parlare di te. Sì, e io di te? Ti sono mancata. Ti va una birra fresca? Cavolo, se ci devi pensare tanto, temo che la risposta sia no. Quindi, chi si emerge prima, noi? Beh. Stavolta muoviti, però. Ah, cavolo, Giulia. Stavo per dirtelo. Cosa? Avevo promesso a Brad che saremmo scesi insieme, sai? Cose tra fratelli. Scherzi? Alex, mi avevi promesso che... Oh, vabbè. È uguale. A volte è utile provare a osservare il mondo attraverso gli occhi dell'altro, perché tutto appare sotto una luce diversa. Sperolta muoviti, perché tutto appare sotto una luce diversa. Grazie a tutti.